Big Blue, Area Pelagos, siamo con il Presidente della Federazione Italiana di Canotaggio, Giuseppe Abagnale, un nome che è una garanzia di successo e porterà al successo anche questa federazione che è molto vicina all'ambiente della nautica, ma anche da adesso in avanti è anche il momento della tecnologia, se non sbaglio Presidente. Grazie per gli auguri, naturalmente mi auguro che questo quadriennio sia proficuo per tutto quello che noi cercheremo di mettere in campo. Naturalmente è un compito certamente gravoso, ma noi siamo abituati a lavorare, questo non ci spaventa. Conteremo alla fine del quadriennio di avere qualche rappresentante in più qualificato per i giochi olimpici e magari qualche medaglia da portare, per portare qualche medaglia in più a casa. Devo ringraziare la fiera Big Blue per averci dato questa opportunità di inserirci in questo contesto così ampio, per parlare di mare, ambiente pulito, eccetera, eccetera, e anche l'Associazione Culturale Pelagos per averci ospitato e concesso questo piccolo spazio per mostrare a un'ampia platea quello che è la nostra disciplina e anche per mostrare questi nuovi tipi di imbarcazioni con cui noi ci apprestiamo a sviluppare una nuova disciplina che è il coastal rowing, visto che l'Italia è una perisola che ha il mare, in prima battuta, un ambiente naturale con cui noi ci possiamo innestare tranquillamente. Le nuove tecnologie significano innovazione, innovazione significa qualcosa di molto giovane. Che cosa state facendo per i giovani per avvicinare queste pratiche sportive che sono molto sane, molto ecologiche, molto vicine a quello che è la natura, ma soprattutto allo spirito sportivo? Il canottaggio si presta molto ad essere uno sport naturale, quindi contatto costante con la natura, uno sport complesso sì nel suo entourage, ma comunque veramente appetibile dal punto di vista può essere uno sport singolo di squadra, quindi innesta tutta una serie di meccanismi. Noi abbiamo dei grandi obiettivi, soprattutto sui giovani, nell'approntare un'ampia e più strategica base su cui poter attingere maggiormente per lo sviluppo dell'attività. Abbiamo una collaborazione delle convenzioni con alcune scuole, abbiamo sviluppato un progetto rimane a scuola, su cui conteremo di avvicinarne altri. Questo per far sì che la nostra disciplina sia una disciplina che abbia un appeal maggiore verso quella gioventù che crede ancora in valori che sono intrinsechi, veri, del nostro ambiente e della nostra attività. Grazie